Io voglio la verità di quello che hanno fatto a mia figlia, va bene, Martina non torna. Franca Murialdo e Bruno Rossi non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio, da quel 3 agosto 2011 infatti si battono per cercare la verità sul drammatico destino della figlia, Martina Rossi precipitata dal sesto piano dell'hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca. Oggi è stato il giorno del loro drammatico racconto in aula nel corso del processo per la morte della studentessa d'Imperia. Nessuno ci aveva detto niente di Martina, nessuno ci aveva detto di che cos'era morte, noi credevamo addirittura che fosse stato un incidente di macchina, dopodiché ci hanno detto che era caduto da una finestra. Da qualcuno mi sarei aspettato una telefonata, i miei cellulari l'avevano tutti, non l'ho avuto da nessuno e soprattutto i due attuali imputati erano scappati, io non so usare altri termini, dall'altra parte dell'isola. In un primo momento la polizia spagnola concluse che si era trattato di un suicidio ed archivio il caso. A volte dà quasi la sensazione che un errore è un errore, due errori sono due errori, ma quando si continua a perpetuare errori, quando si manifesta la volontà di perpetuarli, allora non sono più errori, sono colpe. Sul banco degli imputati due giovani aretini, Luca ed Alessandro, accusati di morte in conseguenza ad un altro reato, ossia la tentata violenza sessuale. Sono dal 2011 che questi ragazzi hanno una sovraesposizione e assistiamo a un vero e proprio linciaggio mediatico di questi due ragazzi, quindi sicuramente seguono con attenzione il processo, però con la tranquillità di chi sa di non avere nulla da nascondere. Ascoltato nel corso dell'ultima udienza anche Mattia, il giovane di Urbino, con cui Martina trascorse le ultime ore in discoteca alle Baleari poco prima che volasse giù dal sesto piano. Mattia era descritta come una ragazza serena, quella quale parlò della vacanza, ma anche di arte e da lì, artista preferito di Martina ed impresso sulla pelle del giovane. I due ragazzi quella notte si baciarono e poi si scambiarono i contatti Facebook. Infine è stato il turno delle deposizioni del medico di famiglia della ragazza, della psicologa che seguì Martina nel 2009 di una compagna di università.